Sarà la sala riunioni dell'ospedale della Fratta ad ospitare domani, mercoledì 21 novembre alle 16, l'incontro informativo organizzato dalla zona distretto Valdichiana e rivolta a tutta la popolazione, in particolar modo alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sulle opportunità e i servizi previsti dal progetto Dopo di Noi. Che cosa prevede il progetto che verrà presentato domani? Il progetto provvede alla creazione di un appartamento all'interno della zona Valdichiana, precisamente nel comune di Cortona, quindi a Camucia, dove saranno ospitati per questa sperimentazione quattro persone, quindi abbiamo quattro disponibilità di posti all'interno della struttura, più uno che noi lasciamo sempre per eventuali emergenze. Noi sappiamo che la maggior parte delle persone con disabilità oggi, sia in Italia che in Toscana, sono gestiti all'interno delle famiglie, quindi poter dare un supporto, poter dare una risposta, che sia una risposta, come dice il progetto, dopo di noi, laddove le famiglie o sono assenti oppure non sono competenti per dare una risposta adeguata a una persona con disabilità, subentra quindi l'organizzazione messa a disposizione loro per dare un futuro a questi ragazzi, giovani adulti e adulti che non possono gestire la vita quindi da soli. Il progetto può contare su un fondo di 306.036,25 euro, somma derivante in parte da finanziamenti regionali e da un cofinanziamento di soggetti partner. I soggetti partner che sono la Coinè, la Comars, la Fondazione Riconoscersi, ma anche abbiamo un sostenitore esterno che sono i ragazzi speciali. Sono associazioni che già lavorano in Val di Chiana con numerosi progetti rivolti alla popolazione giovanile, disabile, abbiamo altre strutture già operanti in questo senso e che danno il loro contributo con un finanziamento superiore ai 177.000 euro all'interno quindi della globalità del costo del progetto stesso. Queste sono cooperative che lavorano già con noi, abbiamo strutture già destinate a disabili che stanno lavorando, che continuano a lavorare da anni, che sono per noi una risposta non solo estremamente positiva, ma soprattutto ci danno la possibilità di accogliere i numerosi disabili che abbiamo perché teniamo in considerazione che se guardiamo i dati, anche solo i dati incidenti dell'anno scorso, la Val di Chiana retina purtroppo esprime un tasso grezzo superiore anche a quello della regione toscana. Questo significa che abbiamo bisogno di dare queste risposte.